Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Giuda, che dopo avere in compagnia di Gesù Cristo, indefessamente travagliato a predicare nella Palestina il Regno Santo di Dio, portaste la luce del suo Vangelo in tutta quanta la Mesopotamia, e la diffondeste in tutti i popoli. E la tramandaste. A tutti i secoli con la lettera da voi indirizzata. A tutti quanti i fedeli per premunirli. Contro la seduzione dei falsi sapienti del secolo. Ottenete a noi tutti la grazia. Di praticare sempre con esattezza, tutti i doveri del nostro Stato. E di tenerci sempre immobili nella fede di Gesù Cristo. Malgrado tutti gli scandali del mondo, sempre corrotto e corrompitore. Così sia. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. San Giuda Taddeo. Pregate per noi.